Da cosa nasce cosa? L'inchiesta Mastro Lindo della Procura di Nocearia Inferiore ha scoperchiato un pentolone che nascondeva presunte irregolarità nella gestione dei versamenti da parte dell'Inps. E alla fine il direttore generale dell'Istituto di Previdenza Sociale Massimo Cioffi ha deciso di autosospendersi dalla carica per difendersi nella nuova indagine sugli esodi dei lavoratori dell'Enel di cui lo stesso Cioffi era stato direttore delle risorse umane. Dunque tanto il lavoro che attende ancora il sostituto procuratore del Tribunale di Nocearia Inferiore Roberto Lenza che sta coordinando questo nuovo filone di inchiesta a Mastro Lindo e che qualche tempo fa aveva portato a una serie di perquisizioni eseguita la direzione generale dell'Inps a Roma e in tutte le sedi dei capoluoghi di regione, realizzate dai carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura Nocerina guidati dal luogotenente Massimo Santaniello. In una nota l'Inps ha sottolineato che nonostante Cioffi sia stato sempre estraneo alla vicenda rispetta la sua decisione riferita all'autosospensione volontaria che gli consentirà una migliore e più libera difesa per respingere le infamanti accuse di cui è investito. La nuova fase della maxinchiesta Mastro Lindo era iniziata per scoprire anomalie nell'ambito di fittizi rapporti di lavoro, specie in aziende detti da pulizie, ma poi ha portato a scoprire in debite maxi indennità e largita dirigenti e funzionali dell'Inps. Successivamente le attenzioni di carabinieri e procura di Nocera si sono soffermate sugli accordi firmati dal gruppo Enel con 11.000 lavoratori in uscita ai tempi in cui, guarda caso, il capo del personale era lo stesso Cioffi. L'Istituto Previdenziale aveva avviato a dicembre una propria indagine interna, un esodo, quello dei lavoratori Enel, incentivato col mancato pagamento dei contributi previdenziali. Ha girata la normativa con un danno presunto allo Stato di circa 40 milioni di euro. In realtà le segnalazioni all'Inps erano giunte dalla Guardia di Finanza già da qualche anno, fiamme gialle che avevano segnalato questo illecito giochetto. Dopo queste indagini Cioffi lasciò l'Enel, da dove lavorava nel 2006, nel 2014, passando però, guarda caso, proprio a ricoprire il ruolo di direttore generale all'Inps. La procura di Nocera Inferiore sta indagando anche sul presunto conflitto di interessi del DG autosospeso, sì. Cioffi, nella sua nota, ha parlato di pieno accordo con il presidente di Inps, Boeri, rispetto alla sua decisione, pieno rispetto dell'operato della procura di Nocera, nella quale ho massima fiducia, ha detto Cioffi, che però non ha voluto entrare nel merito delle vicende, che saranno oggetto di specifica memoria, che sarà depositata, ha concluso l'autosospeso DG, quanto prima presso la procura nocerina.